Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Preciso subito che sono senza voce, perché è tipo una settimana che ho una tosse disumana, quindi se mi sentirete un po' con una voce strana, mi scuso, ma avevo un po' di video da fare e non potevo più attendere. Oggi vi presento, fatto spezzato, la nuova scatola di espansione e di setting di Warcry, ambientato nell'Age of Sigmar gioco della Games Workshop, laddove vedremo in competizione, nelle foreste oscure, i guerrieri dell'Obelisco di Giada, da una parte che sono questi, che ora a breve poi ovviamente vi faremo vedere da vicino, che sono questi qua su, che ricordano anche un pochino, un po' le Stormcast, soprattutto quelli più grossi, ticci, con le armi a due mani, e dall'altra parte gli uomini lucertola di, non so come si pronuncia, scusatemelo, o Wanki o Wanchi, penso che siano gli uomini lucertola di Wanchi, che sono questi qua giù, e insieme a loro ci sono anche dei bellissimi alleati, come sempre gli uomini lucertola hanno avuto, che sono tipo lipterodattili, che sono veramente spettacolari. Me ne parlo a breve, dopo la sigla. Fatto spezzato, gioco della Games Workshop di Warcry, set di espansione in ambientazione Age of Sigmar, non è, preciso subito, non è una nuova scatola base, ma è una scatola di espansione, con un nuovo scenario, delle nuove missioni della campagna, che ora poi a breve vi faremo vedere nel corso del video, e soprattutto avremo due nuove bande, con tutte le loro carte, abilità, poteri speciali e quant'altro, che sono, da una parte, come vi ho detto, i guerrieri dell'Obedisco di Jada, e gli uomini lucertola di Wanchi. Praticamente la storia di questa nuova scatola ci vede laddove un città volante, ma che viene vista come un'arca, una specie di astronave, che un po' fa pensare anche a Warhammer 40.000, degli uomini lucertola, centinaia di anni fa è caduta sulla Terra, ed è caduta in questa foresta, schiantandosi in migliaia di pezzi, qualcuno che l'ha osservata prima di tutti i gruppi e le bande che ora vanno a cercare di razziarla, ha sentito che ci sono tesori di inestimabile valore, e quindi tutte quante le bande che sono venute a saperlo, giustamente, fa pensare anche un po' al vecchio Mordheim, vanno a cercare questo tesoro, vanno a cercare questi tesori e queste antiche rovine di questa, la chiamano, città volante, che si è schiantata sulla Terra e si è distrutta. Quindi la storia, in modalità anche campagna, vuole che voi andrete a muovere qualsiasi banda di Warcry, non soltanto quelle presenti in questa scatola di espansione, nella ricerca di questi tesori, mentre invece gli uomini lucertola, i 1C, sperando di aver beccato sempre la pronuncia, sono quelli che vi dovranno mettere i bastoni fra le ruote, perché sono gli incaricati risvegliati da una specie di magia o criosorno, perché dall'ambientazione questo sembra, che sono stati risvegliati, e coloro che sono sopravvissuti a questo schianto, ovviamente poi nel corso delle generazioni di centinaia di anni si sono riprodotti, e sono rimasti a difesa di queste rovine. Infatti la loro missione è far sì che nessuno possa mai portare via i tesori contenuti in questa grande città, appunto, distrutta, schiantata sulla Terra. Come vi dicevo, ogni banda ha le sue carte, ogni banda ha le sue peculiarità. Laddove, ad esempio, gli uomini lucertola non sono assolutamente per il corpo a corpo, hanno poche ferite, però sono molto bravi nel tir alla distanza con gli archi, magari giavellotti, e soprattutto cerbottane con dardi avvelenati. E sono... è una specie, questa qui, degli one-c, anche camaleontica, quindi sanno anche diventare invisibili per non poter essere bersagliati. Dall'altro canto, invece, i guerrieri dell'obelisco di Giada, la cui loro missione è quella di andare laggiù e distruggere tutto, ed è anche bella la lore, perché per quanto ci sono dei tesori, quelli dell'obelisco di Giada non vanno lì per prendere tesori, vanno lì per distruggere tutto, tutto, tesori, città volante, one-c, obelischi, perché pensano, dalla loro divinità hanno saputo, dagli stregoni, più che altro, vabbè, dalle sciamane che muovono il loro popolo, hanno saputo che quella roba maledetta, il loro dio si sta inalberando, e quindi devono distruggere tutto. E sono molto più votati per il corpo a corpo. Quindi, sì, hanno anche loro qualcosa da attiro, però hanno più punti ferita, hanno più prestanza nel combattimento, e quindi sono molto più propensi a gettarsi nella mischia e nel corpo a corpo. Quindi sono prettamente differenti queste domande dentro. E vi ricordo che sul canale potete trovare il video Cosa ne penso di Warcry, dove tra l'altro ho parlato anche abbastanza bene, nel senso, l'ho elencato bene i vari passaggi del regolamento di Warcry, quindi potete trovare anche una parte, per quanto velocizzata, non faccio mai tutorial, però dove spiego le regolucce base, che poi fondamentalmente Warcry è una riserva di dadi, secondo me, piccola parentesi, è uno dei regolamenti più belli che ha fatto la GV negli ultimi anni, molto più bello anche di Kill Team. Questa manciata di dadi, riserva di dadi, a inizio del turno la tiriamo e prendiamo tutti i doppi, che ne so, doppio 1, doppio 6, doppio 5, o i tripli, o i quadrupli, insomma, tutto quello che esce noi lo mettiamo da parte, se ci sono 3 e 1, mettiamo i 3 e 1 insieme, se ci sono 3 e 2, mettiamo i 3 e 2 insieme, magari 2 e 6 da parte, coppia, triplo e così via, e poi sulla scheda attiviamo dei poteri, magari con 3 attiviamo questo, magari con 5 attiviamo questo, per farvi l'esempio, per attivare abilità più potenti, serviranno anche combinazioni più avanzate, più corpose. Il regolamento è veramente facile, però qui non lo trovate regolamento, quindi non vi sbagliate di comprare questa, come scatola base per iniziare Warcry, perché questa è una scatola di espansione, con nuove truppe, nuove bande, nuove campagne, nuove missioni, qualche nuova regoluccia, ma non è la scatola base, quindi se comprate questa, che viene 150 euro, 145, dovete comprare anche il regolamento. In conclusione, questo Warcry fatto, spezzato, non è, perché ci tengo, che sia abbastanza chiaro, una scatola di base, un set di partenza, però è una scatola, secondo me, non di vitale importanza, perché comunque chi gioca a Warcry, magari si compra poi le varie bande di Warcry, se le compra un po' come gli pare. Però ci sono due bande veramente interessanti, con due tipi di gioco totalmente differenti, uno votato al corpo a corpo, con un po' di strategia, e uno votato invece al tira la distanza e a nascondersi nelle ombre, e soprattutto gli scenari che ci sono dentro sono stupendi, perché sono proprio boschivi, cioè fa pensare a questi uomini in lucertola, abbiamo camminamenti, come avete visto nel corso del video, ponti che collegano magari una casa sull'albero all'altra, quindi è molto elfico come panorama in questa foresta oscura, ed è, secondo me, bellissimo e ne vale veramente la pena. Come sempre, se lo volete ordinare, primo link è in descrizione e in sovraimpressione dalla Gioco Libreria Semola, il nostro negozio sponsor, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, c'è sul sito, andate sicuri, però nel caso non ci fosse, cercate, fatto spezzato Warcry, la scatola non c'è, oppure bollino rosso, perché le copie in magazzino sono esaurite, mandate una mail al supporto della Gioco Libreria Semola a Corrado, e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan, lui, giochi che non sono in magazzino, oppure proprio che le copie sono finite, farà il possibile per ordinarveli anche fuori catalogo, ovviamente di giochi la cui reperibilità è umana, un gioco uscito 20 anni fa non lo può trovare, ma anche un gioco uscito magari un anno fa che si trova ancora molto in commercio, anche se non lo ha nel catalogo, mandate una mail al supporto e ve lo troverà. E mi raccomando, usate sempre il codice discount Coridan7, tutto maiuscolo, al momento dell'acquisto, cliccate codice discount Coridan7, per avere uno sconto del 7%, e se superate una spesa complessiva totale di 79€, spese postali gratuite in tutta Europa, quindi anche fuori dall'Italia, isole comprese, ordinate 24-48 ore, vi arriva a casa, quindi prendete lo sconto del 7%, e non pagate le spese postali. E il servizio della gioco libreria Semola è sempre eccellente, e per me è un top, veramente, andate a vedere sul sito. Molto interessante, non di vitale importanza, ma se volete espandere il parco miniature, magari smezzandovi la spesa con un amico, avere nuove regole e una nuova ammettazione, fatto spezzato, è veramente spettacolare. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!